Un parcheggio sarà realizzato da Cibonaccorsi in via Paoloti, tutto è pronto per espletare la gara e assegnare l'appalto alla ditta che realizzerà l'opera, fondi comunali e fine lavori entro la fine dell'anno. A breve, entro il mese di settembre, l'avvio del cantiere. Interventi anche nel quartiere Sciara, in questo caso si tratta di un finanziamento europeo, 1.300.000 euro, la somma stanziata dalla comunità europea con la partecipazione di una quota, 50.000 euro, da parte delle casse comunali, così come previsto dal bando. A cosa serviranno questi fondi? Riqualificare il quartiere attraverso il ripristino del manto stradale, laddove maggiormente dissestato, il ripristino e la realizzazione di marciapiedi, la predisposizione dell'impianto di pubblica illuminazione, dove è carente, e la messa in opera di due parcheggi. In uno di questi è previsto l'allestimento di un'area verde. L'opera è già stata appaltata.